Consiglio Comunale rimandato alle 16 di questo pomeriggio. Una giornata cruciale per le sorti dei cittadini di Pescara. Se l'opposizione non accetterà le proposte della maggioranza e o viceversa, insomma, se non troveranno un accordo, Pescara sarà destinata al commissariamento. Tradotto, più tasse per tutti. Sicuramente il commissario non sta lì a guardare, come abbiamo fatto noi, i tagli di spesa o cercare di contenere anche le aliquote, ma il commissario usa delle tecniche di tagli verticali e per questo comporterebbero che le aliquote saranno tutte messe al massimo consentito dalla legge. Sicuramente poi il commissario non ha da rispondere politicamente a cittadini, ha da rispondere a chi l'ha messo su questa poltrona per rimettere a posto i conti. E lui farà soltanto un conteggio matematico e non certo politico. Una notte trascorsa in comune a fotocopiare, chiedere abrogazioni a raffiche e procrastinare l'improcrastinabile, dice la maggioranza. Gli emendamenti presentati dal centrodestra sono strumentali e non fanno il bene della città. Bloccare questa operazione significa bloccare il regolamento e bloccare anche le aliquote che noi abbiamo individuato al fine di rimettere a posto i conti di questa amministrazione che siamo in una fase di predissesto. E' bene che la città e i cittadini sappiano che noi siamo in una fase di predissesto. Sicuramente non è nostra la responsabilità. Noi abbiamo messo la nostra faccia, il nostro impegno affinché questi conti potessero tornare a posto, assumendoci anche delle responsabilità che non sono nostre. ma nello stesso tempo chiediamo all'opposizione, che allora era ex maggioranza e che ha prodotto anche tutta questa situazione, di collaborare, ma non per fare un accordo politico con il centrosinistra, ma per il bene della città.